WTF top inizio buon salve a tutti oggi siamo su questo strano gioco abbastanza inquietante direi buon salve tizio ok ho premuto questo pulsante e quindi è abbastanza inquietante come gioco ma che è caduto c'è un frigo ma no è rotto il frigo no greve e adesso che devo fa qualcuno mi spieghi dove devo cliccare c'è una porta dove ci porterà sta porta ok accendiamo l'elettricità a horror si chiama il gioco ok è uscito così con un flash sto titolo non mi era accorto che si era rotta la lampadina ma ok non posso fare nulla perfetto va bene andiamo in questa porta misteriosa ah no è un ascensore ok andiamo in qualsiasi piano ci porti ma dove sono finito sembra un aereo ma perché sono tornato qui prendi sta valigia muovete fai qualcosa se non mori di freddo non sta morendo di freddo allora ci sono delle scarpe e poi c'è questa valigia che non so come prendere forse devo andare in un altro piano proviamo andare in un altro piano vediamo perché c'è questo che cacchio è un filo e quindi chi capisce qua è abbastanza strano come gioco ok qui sono ritornato dove sta l'elettricità allora io forse ho capito che devo fare c'è più o meno ok c'è che cacchio è sto coso perché ci sono delle rose adesso meno male che ci sono le scarpe se non mi sarei tagliato tutti i piedi ok poi non posso aprire ma questo so già dove mi va vediamo se è qui ok uso questo e taglio qui mamma mia sono un genio prendo questo e dovrei prendere questa lampadina allora andiamo di qua vabbè nel mentre indosso già questo ok prendo la valigia che non so cosa c'è dentro la valigia vado in un piano qualunque costa valigia no forse non era qui la valigia ma che cacchio devo fare con io con sta valigia qualcuno mi spieghi che devo farci e few moments later che uso a sta valigia come scala interessante una bella tecnica e quindi torniamo qui e riutilizziamo la valigia come scala bravo bravo ce l'abbiamo fatta e luce fu e luce fu ma come son finito qui ok ho delle rose in mano e un vestito quindi ma no no che finale bruttissimo le ha fatto le corna la moglie no no non fare niente con quella corda non fare niente non ammazzerà il tipo non ammazzerà no no piano con quella bottiglia no piano piano eh 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 donna mi sa che non riuscirai a scappare è incazzato ma che cacchio Cacchio no 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 questo si butta questo si suicida no che cazzo di finale è questo ah in poche parole l'inizio del limino che si butta in poche parole è come se fosse il finale Perfetto direi Rinizia la cap Tipo un loop sto gioco Se Credo Cioè praticamente Tipo come se Il sogno nel sogno Non ho capito Ok Ok E' un finale un po' strano E vabbè Quindi Se vedete vostra moglie Con un altro uomo Non Non le ammazzate Mi raccomando Io mi dissocio dalla violenza Va bene Detto ci voglio dire Di chiudere qui Questo video un po' strambo Spero che in qualche modo Vi sia piaciuto Ovviamente Lasciate un like Iscrivetevi al canale Seguitemi su tutti i social Possibili Ed immaginabili E detto ciò No ci vediamo In un prossimo video Speriamo meno inquietante Di questo Di questo video un po' strambo Di questo video un po' strambo